Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo una maglia che avevamo già visto in versione player, trovate qui in alto la recensione. Questa è la versione fan della terza maglia del Chelsea per la stagione in corso. Grazie a tutti. La maglia non mi dispiace, ho aspettato tanto perché volevo che avesse lo sponsor e devo dire che con questa secondo me risulta più bella, perché è un po' più piena. Qualità ottima, costo lo vedete qui sopra, molto basso come al solito, ma decidete voi cosa fare. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete le misure. Prima però vi chiedo di iscrivervi al canale. È un piccolissimo gesto ma che ci aiuta a farvi vedere maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto. Alla prossima. Grazie a tutti.